La configurazione in cui normalmente ci troviamo in conseguenza dell'interiorizzazione dell'inconscio sociale è questa, cioè tra l'io e l'anima si infrappone il giudizio, la mente giudicante, che quindi frantuma l'io in tante correnti, ma in particolare attraverso questa, che chiamiamo bilancia strutturale, la parte depressa e la parte narcisista. Quando noi facendo un lavoro tipo costellazione dell'anima o comunque altro lavoro ci porta a contattare l'anima, questo avviene perché il giudizio viene messo tra parentesi, allora l'io si sente investito di una nuova qualità energetica, una onda energetica che non contiene il giudizio, e non contenendo il giudizio è una qualità energetica morbida, cioè una qualità energetica d'amore. Quando l'io è guidato, come si dice, dal cervello del cuore, dal centro del cuore o dall'anima, è chiaro che il giudizio scompare e quindi viene guidato dalle qualità dell'essere, che sono la buddita. A questo punto la bilancia strutturale cambia completamente perché l'io, la parte giudicante, diventa discernimento, la parte depressa diventa il valore dell'appartenenza, dell'intimità, dell'affettività, e la parte narcisista, l'anima della parte narcisista, è il bisogno di individualità, di essere se stessi nel mondo. Quando abbiamo fatto questo passaggio siamo in una nuova configurazione, un nuovo modo di utilizzare la mente e cervello, e da soltanto a questo punto siamo in grado di assumerci la responsabilità, cioè essere abili a rispondere. Quando abbiamo fatto un passaggio del genere possiamo cadere in una brutta illusione, cioè che avendolo fatto poi rimanga stabilizzato. Beh, questo è abbastanza ridicolo se ci pensiamo, perché immettiamo che questa sia la lingua italiana e questa sia la lingua inglese. Se imparo la lingua inglese, non mica che la lingua italiana la dimentico. Se ho parato italiano per tanti anni continuerò a pensare in italiano molto spesso, a sognare in italiano, a fare tutto quanto che mi richiama l'italiano.